Ci sono ormai le zanzare in giro. Comincia l'estate. Come risolvere il problema dei beconi, delle zanzare? Con l'alloe vera basta prendere una foglia, ci sente prurito sulle gambe, sui bracci, tagliata la foglia, una spalmata così, senza neanche tirare via il gel, direttamente nel punto che si sente prurito, che dà fastidio, e sparisce in un attimo il senso del solettico che fa la zanzara. Con l'alloe vera. Ok.